Premiamo le storie di cittadinanza attiva, premiamo le storie di chi non si arrende, sia a livello comunale che provinciale. Sappiamo che ormai le istituzioni sono sempre più dormienti, abbiamo una politica distratta, però noi dobbiamo raccontare anche storie positive per incoraggiare i cittadini a colmare queste disattenzioni. Quindi abbiamo un gruppo di cittadini che nel Cilento, ad Agropoli, hanno preso in mano la situazione su un quartiere che era dimenticato dalle istituzioni, il quartiere di Moio, nel comune di Agropoli, e li premiamo perché loro ormai da tre anni, in maniera incessante, stanno garantendo decoro urbano, pulizia e sicurezza in zona. E poi abbiamo un'altra bella storia, una storia di cittadini di Salerno, di giovani salernitani e non solo, che stanno bonificando da settimana le spiagge ridotte a discarica da una politica disattenta, una politica disamorata, in prevalenza spiagge della zona orientale, spiagge ridosso anche dello spaglio a Regi. Un problema atavico ormai, quello del fronte mare, reso purtroppo simbolo del degrado, invece un domani dovrà essere fonte di ricchezza e reddito per i salernitani, e questo è un segnale che ci fa ben sperare perché questi cittadini hanno apprezzato l'iniziativa del Cittadino del Mese e da lì, dalla nascita di questo progetto, hanno voluto dare un segnale per conseguire questo titolo prestigioso. Quindi noi saremo attenti, vaglieremo anche tante altre storie di attivismo e ogni mese lo premeremo perché il bene deve vincere sul male e raccontando belle storie può avvenire che avremo un futuro migliore. Allora mi chiamo Francesco Ronca, ciccio per tutti, e praticamente ho deciso di fondare questa associazione che si chiama Voglio un mondo pulito, dove molti ragazzi hanno deciso di aderire, è una cosa che mi ha reso molto orgoglioso perché ho visto la partecipazione di tanti ragazzi e ragazze che come hanno visto l'iniziativa hanno preso a cuore anche loro il problema dell'inquinamento in generale, l'inquinamento, noi ci stiamo concentrando molto sulle spiagge adesso, abbiamo fatto già un bel gruppetto di persone dove stiamo raccogliendo insomma plastica, ferro, tutto ciò che lasciano purtroppo sia le istituzioni che non se ne occupano e quindi non mettono dei cestini, delle campane del vetro e anche un po' ciò che lasciano alcuni cittadini, pochissimi in realtà, che non si interessano dell'ambiente e quindi prendono il mare, la spiaggia come fosse una discarica a cielo aperto. Quindi noi ci stiamo impegnando attivamente affinché tutto questo cambi e di dare il nostro contributo alla città e ovviamente al mondo, perché parte da Salerno però è comunque un'iniziativa che spero venga emulata da più parti. Passeggiando con il mio cane via Lende vedo molte volte che è pieno di immondizia, è pieno di discarica e quindi denuncio molte volte questa situazione via web, via Facebook e grazie all'intervento di Fiasso Soccollo molte volte viene risolto, anche se puntualmente dopo che vengono rimossi questi rifiuti vengono di nuovo rivissi. E quindi siamo qui per denunciare tutto questo. Sono di Salerno, appunto con Ciccio, stiamo pulendo la spiaggia all'altezza della zona industriale e abbiamo praticamente trovato di tutto. Io già feci un'iniziativa simile a luglio pulendo insieme a mio amico la fontana del Grandot del Salerno, quella obbligata di fronte al Grandot del Salerno e appunto mi sono ritrovato con Ciccio e abbiamo continuato questa avventura. Se non facciamo noi qualcosa da cittadini, ci dispiaceva vedere la spiaggia ridotta in quelle condizioni e quindi abbiamo sentito proprio il dovere di fare qualcosa noi. Allora noi siamo parte del direttivo del comitato che ovviamente consta di altre persone. Siamo qui in rappresentanza di tutto il comitato che in realtà rappresenta un quartiere intero. Siamo 2.900 abitanti. È un quartiere periferico della città di Agropoli, per intenderci il quartiere che comprende anche la Baia di Trentova che credo sia il fiore all'occhiello di Agropoli sia riconosciuta in tutta la Campania. Noi siamo attivi sul territorio da tre anni e ci occupiamo del nostro territorio, ci occupiamo di mantenere il nostro territorio pulito, ben tenuto, ci occupiamo della manutenzione delle strade, dei marciapiedi, dell'illuminazione pubblica. Abbiamo un ottimo rapporto con l'amministrazione, infatti diciamo che ci interfacciamo con i vari assessori e con il sindaco quasi quotidianamente. Siamo aiutate in questo cammino anche dal parroco del rione Moio che è Don Carlo Pisani, il quale rappresenta la comunità spirituale del Moio ma è sempre molto molto attento a tutte le problematiche, non abbiamo mai avuto un diniego da parte sua, ci ospita nei locali della chiesa nel fare le nostre riunioni, noi le teniamo lì nell'oratorio. L'ultima in ordine di tempo è stata tenuta il mese scorso con l'amministrazione ed è stato un appello della comunità del Moio a una maggiore sicurezza del territorio perché abbiamo problemi enormi di reati predatori su tutto il territorio di Agropoli ma il nostro quartiere è un po' funestato perché essendo molto grande, molto esteso e con tante vie di fuga probabilmente più semplice, ci sono zone ancora al buio, non hanno l'illuminazione pubblica ma abbiamo provveduto anche a questo, abbiamo chiamato le ditte e abbiamo sensibilizzato anche l'amministrazione a terminare quella che è l'illuminazione anche nelle zone che sono ancora al buio. Noi lavoriamo con grande serenità, con grande semplicità, noi scendiamo la mattina da casa e ci rimbocchiamo le maniche e vediamo quello che c'è da fare, come si fa in ogni casa, insomma, noi approcciamo il territorio come faremo in casa nostra, cerchiamo, insomma, di fare quello che c'è da fare la mattina. Va bene, io dovrei dire le cose che ha detto già la collega, in realtà, come dicevo anche prima, noi siamo delle persone molto semplici, la nostra forza è stata la semplicità e poi la cooperazione con il nostro comune e i nostri dirigenti comunali i quali hanno messo a disposizione il loro personale per far sì che ci aiutassero a pulire, a sistemare, a mettere in ordine, dove mancano delle cose si aggiungono, dove c'è tutto quello che può servire nella normale manutenzione e per rendere più bello il territorio, il nostro territorio in particolare, come diceva la collega, è il fiolo all'occhiello per la Baia di Sant'Oro. Diciamo che tutto questo si sta portato avanti con molta semplicità, con piccole cose che però poi nel tempo diventano grandi perché si evitano accumuli di spazzatura, si accumula manutenzione a livello di taglio di erba, insomma tutto quello che può rendere bello è pulito e ordinato il nostro quartiere.